Carissimi lettori di Contrasto TV, oggi ci troviamo con Stefano Masi. Buonasera. Un altro caos al Partito Democratico di Carinaro con un tesseramento scandaloso, se così lo vogliamo chiamare. Sì, allora, in effetti diciamo di scandaloso c'è qualcosa, ma in realtà non è stato proprio il tesseramento. Chiariamo innanzitutto che le regole del tesseramento che si è fatto in questi giorni non le ha decise Stefano Masi.